Vendeva sigarette di contrabbando nella centralissima via Roma, Vittoria. Le bionde, più di un chile e mezzo, erano nascoste all'interno di una Volkswagen Golf di proprietà di un cittadino di nazionalità tunisina. A insospettire alle fiamme gialle la grossa mole di merce che era caricata nella vettura. Il nervosismo, manifestato dall'autista al controllo dei militari, ha fatto scattare una perquisizione veicolare che ha portato al rinvenimento di otto stecche di sigarette di varie marche, tutte sprovviste dell'etichetta dei monopoli di Stato. Per l'uomo è scattata quindi una denuncia per violazione alle leggi doganali e contrabbando di tabacchi lavorati esteri, oltre all'elevazione di una multa superiore agli 8.000 euro. La normativa doganale sanziona pesantemente infatti i casi di contrabbando poiché sono importanti le ripercussioni economiche di queste condotte, soprattutto per quanto concerne l'applicazione dell'accisa e dell'IVA. L'attività antri contrabbando della Guardia di Finanza è diretta proprio a salvaguardare gli interessi dei rivenditori di tabacchi che assolvono numerosi impegni economici per ottenere e conservare la licenza. Grazie. 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 Grazie.